Cosa succederà al mercato azionario? Questa è una semplice flessione, ci sarà un rimbalzo o è l'inizio di un crash? Siamo ancora in un momento rialzista o siamo entrati in una visione più ribassista? Ragazzi, per rispondere a queste domande il mio consiglio è tenete d'occhio sempre questo grafico. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi voglio farvi riflettere su un paio di questioni. Una questione riguarda un grafico importante che secondo me in questo momento storico ci può dire molto su che cosa sta accadendo e potrà accadere sui mercati azionari e mi riferisco al grafico dei treasury. In particolare per controllare un bacino di quotazioni più grandi, oggi quello che vi farò vedere sarà un ETF, il TLT, un ETF importante che all'interno del suo paniere contiene tutti quanti i treasury dai 20 anni in su, quindi diciamo di lungo termine direi, lungo e lunghissimo termine e sono quei treasury, quindi sono le obbligazioni, chiamiamole in italiano, dove gli investitori vanno quando c'è sfiducia dal punto di vista economico sull'economia e sulla finanza nel breve termine. Ok, quindi diciamo che gli investitori entrano, preferiscono mettere i propri capitali invece che sul mercato azionario che è un mercato che comunque gli dà prestazioni e performance maggiori, quindi maggiori guadagni, ma quando quel mercato è troppo rischioso per loro che cosa fanno? Quei soldi non li possono tenere fermi ma li mettono sull'obbligazionario e scelgono su quale finestra temporale metterlo in base al livello di fiducia che hanno sull'economia. Quello che voglio farvi vedere è che il TLT che ha i treasury, le obbligazioni dai vent'anni in su è quello che sta crescendo di più, quindi vuol dire che gli investitori hanno sfiducia nel breve termine, ok? Quindi quel grafico sta aumentando e quello che voglio farvi, ve lo faccio vedere oggi, ma il secondo concetto che voglio condividere con voi è il seguente, ma se la Federal Reserve che abbiamo detto è quella che manipola il mercato, è quella che muove come un burattinaio il mercato azionario, in che modo? Ragazzi stampando soldi e quindi con il quantitative easing, con manovre di quantitative easing o bruciando soldi con il quantitative tightening, ormai se seguite il mio canale questi due concetti ne abbiamo parlato e li avete visti, con gli interest rates, con i tassi di interesse, alzandoli ed abbassandoli, quindi stimolando l'economia, dando la possibilità ad aziende e corporate e istituzioni di prendere in prestito più facilmente soldi, fare più investimenti sia per far crescere il business sia investimenti sui mercati. In questo modo la Federal Reserve ne abbiamo parlato, andatevi a vedere i miei video ragazzi sulla playlist crisi finanziarie, in questa playlist abbiamo parlato più e più volte di queste cose, ma se invece, ed è questa la riflessione che facevo proprio ieri sera, ma se invece la Federal Reserve, invece che manipolare come un burattinaio e muovere i fili di questi burattini dell'economia e della finanza, non faccia altro che seguire quello che succede. È come se, secondo me, la Federal Reserve, viviamo in un momento così ormai andato oltre determinate caratteristiche dinamiche, e avendo ormai superato quei confini, veniamo fuori ragazzi da dieci anni di quantitative easing, in cui i mercati hanno avuto una bull run senza precedenti, perché sono state iniettate liquidità, soldi sui mercati. Quindi, se la Federal Reserve non è più in grado di controllare la situazione, ma solo di adeguarsi in base a quello che vede accadere, e quindi qui il ragionamento. Se il mercato ragazzi continuerà a scendere, e questa flessione continuerà a rimanere una flessione più o meno profonda, non voglio dire che ci sarà un crash, una recessione, no, voglio solo dire, se il mercato continuerà a scendere e a lateralizzare piano piano, quindi non riuscirà più, nel breve termine, almeno a tornare e a superare i massimi, a toccare finalmente i 3.000 dollari per quanto riguarda l'S&P 500. Quindi, se il mercato azionario presenterà questa opzione, quello che secondo me vedremo, mia opinione personale, è crescere ancora di più il grafico del TLT, delle Treasury, perché di nuovo verranno tolti i soldi dall'azionario e verranno messi in contesti più sicuri, e cosa c'è di più sicuro delle obbligazioni, dove ci sono anche guadagni molto minori, però vedremo crescere quel grafico, e quindi che cosa succederà? A quel punto la Federal Reserve sarà obbligata, e non sarà più attivamente la Federal Reserve, a decidere che cosa fare, ma si dovrà comportare di conseguenza, la Federal Reserve dovrà abbassare i tassi di interesse, che già non sono altissimi ragazzi, perché venivamo l'anno scorso, 2017, inizio 2018, da tassi di interesse praticamente prossimi allo zero, e poi abbiamo visto che cosa è successo da ottobre a dicembre, quando li ha continuati ad alzare la Federal Reserve. Quindi sarà obbligata ad abbassarli per stimolare di nuovo l'economia. Quindi il ragionamento qui che volevo lasciarvi sul tavolo è, e lo voglio approfondire ragazzi, lo approfondiremo qui sul canale, quindi se intanto avete delle idee, dei commenti, lasciatemeli qui sotto sul canale, ma io già da ieri sto indagando su questo aspetto, voglio portarvi a dati oggettivi, come al solito, e analitici, e non solo le mie sensazioni di pancia, perché un trader non è con queste sensazioni che fa trading, non si fa trading o investimenti, non si fanno con mi sento che secondo me, no non esiste, bisogna avere dei dati oggettivi, è difficile anche con i dati oggettivi far trading e investimenti. Quindi lasciatemi un commento, un like se questa serie di video vi piace, in modo tale che capisca che è bene continuare queste informazioni, condividerle, perché come dico sempre, un trader più informazioni ha, più freccia al proprio arco, e più è in grado di prendere decisioni con un vantaggio statistico maggiore, perciò voglio approfondire il discorso, ma riflettete su questo, se veramente le banche centrali non siano più in grado di controllare la situazione, e quindi l'unica cosa che possono fare è reagire a quello che vedono accadere, e vi lascio con una frase di Greenspan, Alan Greenspan, che fu un chairman, il presidente della Federal Reserve americana, che disse i mercati sono mossi dalla psicologia umana, sono mossi da due cose, ondate di paura e ondate di ottimismo, è questo che muove il mercato, non sono le notizie, le notizie del mercato sono, e ne parliamo in un altro video, sono la reazione della percezione di investitori istituzionali, giornalisti, media, eccetera, a come in quel momento la psicologia umana si trova, perché se si è in un momento di estremo ottimismo, anche la notizia peggiore verrà presa, verrà addolcita, gli angoli di questa notizia verranno così smussati, viceversa se si è in un momento di pessimismo, anche la notizia migliore non verrà presa bene dai mercati, perché si muovono seguendo la psicologia umana, importantissima questa frase, io me la ricordo stampata in testa, ragazzi vi faccio vedere velocemente il grafico del TLT, così conoscete anche adesso questo ETF, il mio consiglio è tenetelo d'occhio, e ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per rimanere sempre aggiornati, ogni volta pubblico un nuovo video, noi ci vediamo prestissimo, buon trading a tutti, ciao! Ed eccolo qui ragazzi il grafico dell'ETF di cui vi parlavo, TLT, ETF che contiene in considerazione nel proprio paniere i treasury, le obbligazioni americane dai 20 anni in su, quindi parliamo di lungo e lunghissimo periodo, che cosa è successo a questo grafico? Qui dopo aver fatto questo doppio minimo, eravamo a, ovviamente quando? Indovinate un po', eravamo tra ottobre e novembre, quando il mercato ha cominciato a flettere, quindi c'è stato questo doppio minimo, e il prezzo poi ha cominciato a salire drasticamente da novembre, guardate qui, era dove era dicembre, poi ancora qui sopra, ai massimi, a fine dicembre, inizio gennaio. Poi che cosa è successo? Che il mercato azionario ha cominciato a riprendersi a gennaio, vedete che qui le obbligazioni hanno lateralizzato, poi a marzo, quando c'è stata una flessione sull'azionario, l'obbligazionario è andato a fare un nuovo massimo qui sopra, sceso un pochino, ha rimbalzato sulla media a 50 periodi, e adesso sta esattamente ai massimi precedenti, sembrerebbe proprio che li stia sfondando. Dal punto di vista di Fibonacci, per esempio, andiamoci a vedere questa gamba qui sopra, vedete il ritracciamento che c'è stato, c'è stato, aspettate, eccolo qui, il ritracciamento che c'è stato, c'è stato, ha superato il 38,2, è arrivato sullo 0,50, ha sfiorato il 61,8, ed è ripartito, quindi sta proseguendo il trend rialzista, e infatti i mercati azionari non stanno ancora, non hanno ancora dato dimostrazione di aver recuperato la flessione che hanno fatto, anzi, attualmente sono più, la visione è, sono entrati più in una visione potenzialmente ribassista, guardate, ve lo faccio vedere, vi spiego anche perché, perché c'è stata questa rottura, questa candela qua, ragazzi, è stata una candela veramente importante, perché è stata una candela che ha rotto una struttura importante intorno ai 2820 dollari, quindi la prima rottura si è verificata qua, intorno ai 2870, poi c'era un, diciamo, un livello importante a 2850, rotto anche quello, la, vedete che il prezzo è rientrato dentro questa struttura, potrebbe sì essere un falso breakout, ma potrebbe anche succedere che, invece, guardate, qui ci troviamo di fronte ad una gamba, primo impulso ribassista, ritracciamento, per poi proseguire, vi ho dato anche l'opzione di una possibile, sea wave correction delle onde di Elliot, andiamo a vedere anche con Fibonacci qua, dove può arrivare il ritracciamento, il ritracciamento attualmente, guardate, è arrivato appena al livello 38,2, l'ha sfiorato, quindi ha ancora possibilità, guardate che bello, il 61,8, dov'è che casca? casca su questa struttura, ragazzi, la struttura A2900, è una struttura importantissima, perché ci casca, questa struttura minore, ci casca il ritracciamento del livello 61,8, e in più 2009, numero pari, quindi è anche una soglia psicologica importante, quindi vuol dire che il prezzo potrebbe anche arrivare qui, e continuare, insomma, questo per dirvi, momenti ancora confusi, per il mercato azionario, e che cosa fanno gli investitori, se ne vanno sull'obbligazionario, e infatti, guardate qua, che bel rimbalzo, sulla media 50 periodi, sul livello quasi 61,8 del ritracciamento, e siamo arrivati ai nuovi massimi, dove potrebbe arrivare qua il prezzo, ovviamente ci sono varie modalità, per andare a capire dove può arrivare, potremmo usare l'inversione di Fibonacci, dell'ultimo impulso, per esempio, eccolo qui, livello dal 127 al 161,8, ops, dal 127 al 161,8, questa per esempio è un'area di attenzione per il prossimo impulso, nel caso in cui sia un impulso, diciamo così, armonico rispetto al precedente, in questo caso formerebbe un ABCD pattern, ma non è questo che volevo andarvi a far vedere, volevo invece dirvi, attenzione a questo grafico, perché secondo me, questo grafico sarà il grafico che guarderà anche la Federal Reserve, per decidere quando toccare i tassi di interesse, perché a un certo punto, se questo grafico continua ad andare verso l'alto, e se continua ad andare verso l'alto, è perché continua a scendere il mercato azionario, per stimolare l'economia e tranquillizzare tutti, dovrà abbassare i tassi di interesse, gli interest rate, li dovrà abbassare, il timing però sarà fondamentale, cioè il quando lo farà, decreterà il successo, reale della Federal Reserve. Ragazzi, per oggi è tutto, fatemi sapere come al solito qui sotto che ne pensate, noi ci vediamo prestissimo, grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!